continuiamo con lo studio del campo magnetico avevamo visto l'altra volta il motore elettrico in corrente continua quindi l'aspira percorsa da corrente immersa in un campo magnetico che subisce un momento torcente e ruota utilizzando il commutatore delle polarità del connettore con la batteria ruota sotto po perché è sottoposta un momento torcente e abbiamo anche visto che è possibile utilizzare una grandezza tutto sommato nuova come avevamo visto prima che è il momento magnetico dell'aspira ok se immaginate ecco questa linea rossa sono forse la vedete nella figura in alto a destra come una circonferenza di metallo conduttore percorso da corrente immaginate l'appunto con la corrente i allora il prodotto tra l'area racchiusa dalla circonferenza e comunque dal contorno dell'aspira per la corrente che circola nell'aspira qui mi manca una i scusate si chiama momento magnetico dell'aspira e questo che cosa si serve ci serve in realtà perché è utile per caratterizzare il comportamento dell'aspira che è del tutto simile a quello di un piccolo magnetino per cui c'è un momento magnetico d'accordo e se io volessi inserire ricordate che il campo magnetico prodotto dall'aspira nel centro dell'aspira ha questa grandezza questo valore il mi zero la peramelità magnetica nel vuoto diviso due per la corrente nell'aspira diviso il raggio dell'aspira stessa se i lo prendiamo come il momento dell'aspira diviso pi greco r quadro e lo sostituiamo qua dentro abbiamo quel campo magnetico è un vettore parallelo al momento magnetico possiamo anche pensare al momento magnetico come quello che avremmo la direzione di un magnetino appunto diviso 2 pi greco r alla terza che in realtà quando abbiamo fatto il campo elettrico non l'abbiamo visto in dettaglio ma è analogo al campo che avrei per un dipolo elettrico anche nel caso del dipolo elettrico il campo elettrico è proporzionale all'inverso del cubo della distanza ok e qui ho un comportamento analogo questo ci sarà utile tra un attimo quando vedremo il campo magnetico all'interno della materia d'accordo quindi campo magnetico e momento magnetico sono in questo senso proporzionali adesso andiamo a vedere se ci riusciamo tempo a sufficienza un concetto importantissimo che la circuitazione del campo magnetico quando abbiamo parlato di campo elettrostatico abbiamo discusso della caratteristica del campo elettrostatico di essere conservativo cioè se io considero il lavoro svolto dalla casa dalla forza elettrica su una carica elettrica per spostarla da un punto ad un altro il lavoro è indipendente del percorso o meglio ancora se il percorso è chiuso il lavoro è nulla quindi il lavoro svolto dalla forza o se preferite il lavoro per unità di carica quindi il lavoro svolto dal campo elettrico su una carica lungo un percorso chiuso è zero e questo è la ragione per il quale esiste la energia potenziale elettrostatica il potenziale e via dicendo il lavoro svolto da un campo lungo un percorso chiuso prende anche il nome di circuitazione d'accordo quindi una delle proprietà i fondamentali del campo elettrostatico ripeto e sottolineo e avere circuitazione nulla per cui il campo diciamo che è conservativo andiamo adesso a vedere cosa succede per il campo magnetico a qui ecco c'è il concetto di circuitazione per il campo elettrico che abbiamo un percorso chiuso e il lavoro svolto per lungo questo percorso è zero in realtà si può dimostrare che qui c'è un percorso semplice il campo in questo caso prodotto una carica puntiforme ma basta che con il percorso sia chiuso e il lavoro in generale è nullo ok questa forma è semplice perché perché nei due tratti tangenziali alla circonferenza forse spostamento sono perpendicolari quindi qui per forza di cose pronto scalare zero quindi da più una p3 e da p4 a p2 il lavoro è nullo perché forse spostamento sono perpendicolari viceversa da p3 a p4 e da p2 a p1 i lavori sono esattamente opposti perché lo spostamento è lo stesso la forza è la stessa solo che i versi sono opposti quindi da p3 a p4 il lavoro ha un segno da p2 a p1 lavoro lo stesso valore ma segno opposto quindi il totale fa zero e questo ovviamente indipendentemente dalla carica q grande che fa questo che procede questo percorso un modo compatto di rappresentare lo stesso discorso è immaginare di suddividere il percorso in tanti piccoli spostamenti dr dove r è il vettore spostamento e di sommare tutti questi contributi infinitesimi quindi lungo il percorso dr1 lungo lo spostamento dr1 immaginiamo che il campo elettrico sia poco variabile per cui possiamo prendere il campo elettrico e 1 moltiplicarlo per lo spostamento così come lungo lo spostamento dr2 poi sommiamo tutti questi contributi infinitesimi questa somma di infinitesimi tendendo quindi il numero di spostamentini piccoli infinitesimali a 1 molto grande se il limite con n che tende a infinito questa somma converge a un limite che prende il nome di integrale lo vedrete sicuramente a brevi matematica se non l'avete già visto e si dice che il lavoro del compiuto dalla forza elettrica per spostare una carica da a a b è l'integrale quindi la somma di infiniti spostamenti infiniti lavori infinitesimi che valgono la forza dell'elettrica che carica per campo moltiplicata scalarmente per lo spostamento infinitesimo dr quando a e b coincidono quindi il percorso è chiuso si usa mettere questo circoletto per cui questa grandezza è la circuitazione della forza elettrica se divido poi per il campo per la carica per la circuitazione del campo che prende questo simbolo gamma con c questo simbolo si dice si legge circuitazione del campo elettrico e lungo il percorso chiuso c e formalmente è questo simbolo che è una s stirata che ricorda dalla somma e questo circoletto sta a indicare che il percorso è chiuso c'è il punto di partenza il punto di arrivo coincidono e una delle caratteristiche del campo elettrostatico attenzione la parola elettrostatico è il fatto che a circuitazione nulla qualunque sia il percorso basta che sia chiuso ok cosa abbiamo invece nel caso del campo magnetico prendiamo un caso semplice andiamo a vedere cosa succede se è un filo rettilineo infinito percorso da corrente e sommiamo lo stesso tipo di contributo che nella stessa di circuitazione ma stavolta anziché avere il campo elettrico abbiamo il campo magnetico abbiamo già visto a suo tempo che le linee di forza del campo magnetico sono delle circonferenze la struttura linee chiuse sono circonferenze che si trovano in un piano perpendicolare all'asse che indicato dal filo e tutte con lo stesso orientamento fissato dalla regola della mano destra poi particolare l'intensità del campo magnetico è data da mi zero costante di permeabilità magnetica del vuoto diviso 2 pi greco per i corrente elettrica nel filo diviso a r distanza dal punto dove passa il filo d'accordo qui e tra un attimo capirete perché mi è utile questo 2 pi greco se vado a calcolare la circuitazione del campo cosa faccio prendo ciascun vettore del campo che lo moltiplico scalarmente per il spostamento lungo la circonferenza vedete che lungo la circonferenza il campo è sempre tangente la circonferenza e quindi parallelo allo spostamento infinitesimale e ha sempre lo stesso verso non solo ma siccome b dipende dal raggio lungo la circonferenza ha sempre lo stesso valore per cui il mio integrale diventa una somma algebrica perché b è costante lungo il percorso di integrazione quindi sarà dato dal prodotto tra il valore di b alla distanza r dal filo per la lunghezza del percorso di integrazione cioè 2 pi greco r che è la lunghezza della circonferenza ma b abbiamo già visto che vale mi 0 su 2 pi greco i per r lo sostituisco a b e ottengo che la circuitazione di b lungo il percorso chiuso c che una circonferenza centrata nel filo scusate vale mi 0 volte i quindi è un valore particolarmente semplice che però attenzione non è zero inoltre i prende il nome di corrente concatenata tra un attimo vediamo meglio questo concetto riassumo mentre per il campo elettrostatico la circuitazione del campo elettrostatico lungo un percorso chiuso vale sempre zero per il campo magnetico la circuitazione del campo magnetico lungo un percorso chiuso vale mi 0 premiabilità magnetica del voto per il valore della corrente i quale corrente la corrente i che attraversa se osservate bene attraversa il nostro circuito immaginate di avere una superficie che abbia il nostro percorso di integrazione come bordo la corrente i è coinvolta in questa somma solo se attraversa questa superficie questo tipo di corrente viene chiamata corrente concatenata successivamente è possibile dimostrare che questa proprietà vale anche se il percorso non è una circonferenza dove l'integrazione è semplice ma basta che sia un percorso chiuso che abbia la stessa corrente concatenata qui vedete per esempio nella figura a quella più a sinistra il circuito in il percorso chiuso tratteggiato in arancione è diverso dalla linea di forza del campo magnetico ma la corrente concatenata è la stessa perché perché se immaginate una superficie che abbia questo come bordo la corrente i la attraversa come attraversa la circonferenza che ha come bordo linea di campo magnetico quindi la corrente concatenata è la stessa per cui nel caso a se questo è il mio percorso quello tratteggiato in giallo la circuitazione di b lungo questo percorso vale mi zero volte la corrente i che passa nel filo i se invece cambio percorso questo percorso che chiamano qui nella figura n questo percorso ha una corrente concatenata che è nulla ok perché se c'è sì corrente che passa in questo filo ma il filo i non attraversa la superficie che ha il mio percorso di integrazione come bordo quindi questo percorso di integrazione non ha corrente concatenata quindi lungo questo circuito questo circuito che quindi con la lettera n la circuitazione di b è zero ok quindi domanda possibile la circuitazione del campo magnetico è nulla o può essere nulla risposta si è sufficiente che la corrente concatenata sia zero in generale non è nulla è uguale a mi zero per la corrente concatenata per invece nel caso del campo elettrostatico qualunque sia il campo in qualunque situazione basta che sia un campo ripeto elettrostatico attenzione la circuitazione del campo è zero ok questa legge no non si tratta in realtà di lavoro questo è un concetto importante ma perché perché le la forza magnetica avevamo visto al suo tempo quando abbiamo studiato la forza di lawrence non svolge lavoro sulle cariche ok qui la circuitazione magnetica in realtà generalizza il concetto di lavoro lungo percorso chiuso perché le forze elettriche si svolgono lavoro ma le forze magnetiche no perché la forza magnetica è sempre perpendicolare allo spostamento quindi non può svolgere cioè qualunque lavoro che percorso io consiglio il lavoro è sempre zero però rimane possibile calcolare la circuitazione di b lungo il percorso chiuso che però non ha più il significato di lavoro è fatto bene a sottolinearlo a chiederlo ok rimane comunque uno strumento matematico importante per dare una una caratterizzazione del comportamento del campo d'accordo è solo una caratteristica del campo ok questo è importante sottolinearlo ok direi che dobbiamo fermarci qui perché ormai siamo al limite del dell'orario e questo lo riprendiamo sicuramente nel corso della prossima lezione ci sono domande fin qua bene ok bene noi ci vediamo venerdì giusto venerdì siamo in presenza no va bene quindi completiamo c'è ci sono orali anche venerdì no quindi il vendì riusciamo sicuramente a finire questo discorso sul magnetismo e magari fare cominciare a fare qualche esercizio insieme d'accordo bene ok oggi rimetterò il video nel pdf ve lo metto venerdì quando lo completiamo d'accordo bene ragazzi un salutone satemi bene e alla prossima arrivederci ciao 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 ciao